Ok ragazzi, stiamo per imbarcare! Siamo su un traghetto barra nave diretta verso Olbia ed è fantastico osservare da questa prospettiva tutta Genova la sera. Oggi con Explorer 2.0 andremo ad esplorare una nave, la Mobi-Otta. Allora, la Mobi-Otta è costituita da nove piani. Ogni piano identifica un ponte, viene chiamato lì il ponte. Allora, i primi due piani sono lo scafo, terzo, quarto c'è il garage, quinto, sesto c'è la cabina, ristorante, bar. Ogni piano viene chiamato ponte. Andiamo a vedere ogni singolo piano. Venite con me! Mentre tutti dormono, sono le 5 di mattina, noi andiamo a vedere le scialuppe. Andiamo a vedere le scialuppe, venite con me! Sono le 6 del mattino e stiamo per osservare l'alba dal ponte di una nave. Ed è qualcosa di indescrivibile.